I due minuti di longi hanno una durata percepita variabile. Il momento sarà un'ora e un'ora per ognuno, a primavera per ognuno. Sera verrà. Terra sarà per ognuno. Per oggi a solleva primavera. Non è autunno, ma raffreddo. Densa è la nebbia. Ti saluto, cara amica. Bienvenuti a Loli. Introdurre i genitali nell'apposito morsetto. Introdurre il telefono nell'apposito vaso. Attenzione! Stai per essere sottoposto ad una puntura di stricnina veloce. Il poeta della nostalgia, Albano, la sapeva lunga e forse sapeva che tu, per carnevale, comprati cigli e salario perché ti piaceva mangiare. Attenzione! Già finito? Già finito? Già finito?